Un risultato roboante, ma non per il punteggio, ma per la prestazione, tecnicamente, tatticamente e fisicamente avete fatto la differenza? Sì, secondo me è un risultato un po' troppo pesante perché è stato in biligo 2-0 per almeno 60 minuti, ciò significa che con un gol della Vezzano la partita si poteva riaprire, quindi è chiaro che poi man mano che passavano i minuti, con le forze fresche, come di solito succede in questo mini-torneo, succederà spesso, si può decidere di chiuderla, però fino al 2-0 la partita è stata viva, è una partita vera e con un episodio che ci poteva andare contro si poteva riaprire, però è chiaro che abbiamo fatto una grande prestazione, i ragazzi sono stati bravi, concentrati, adesso il difficile sarà stare concentrati anche per domenica, ma quella sarà tutta una responsabilità mia, assolutamente solo mia, se è domenica. Mister, quando in cronaca diretta ho evidenziato la sua pace dei sensi nel momento in cui osservava la sua panchina, perché cambia azzeccatissimi, ma di una qualità impressionante. Sì, però veramente i ragazzi che sono subentrati, che vanno in tribuna, sanno fare tutto quello che fanno quelli che giocano titolari, e questo è veramente un grande segnale per il gruppo, per me, per lo staff, che stiamo facendo un grande lavoro completo, naturalmente la società mi ha messo a disposizione una grande rosa insieme al direttore Paciarella, sono stati bravi ad accontentarmi in quasi tutte le scelte, anzi togliamo il quasi, qualcuno si offende, però penso che sia adesso una giornata positiva, ma è interlocutore naturalmente, perché l'angolana vincendo ci viene a prendere anche lei in prima posizione, e lo scontro diretto con l'Aquila, perdendolo, ci va sopra, quindi è chiaro, piedi per terra e non molliamo nulla, nulla proprio. Mister, io la lascio a qualche curiosità di Giovanni Tontodonati lì da studio, lo dovrebbe sentire in linea a te Giovanni. Sì, buon pomeriggio mister, è di Massimo Profeta che è qui con me, saluto, ciao Massimo, ciao Giovanni, per essere qui con me. Allora, Lucarelli, oserei dire spietato Lucarelli, se dovessi fare un titolo, perché è di Avezzano, tornava al De Marzi e ha battuto la sua squadra con un 4-0, la sua ex squadra con un 4-0 travolgente. A questo punto, dopo il pareggio dell'Aquila sul campo del Capistrello, il Chieti diventa la principale favorita, è d'accordo? Ma Chieti lo è sempre stato insieme all'Aquila e adesso anche l'angolana si è buttata dentro in questo percorso, quindi noi non ci siamo mai nascosti e io non mi posso nascondere, non sono ipocrita. Tra l'altro volevo salutare Massimo Profeta perché secondo me è un grandissimo giornalista sportivo, non me ne vogliono gli altri, ma lui mi ha fatto una telecronaca in un paterno, partì in sicuro di Coppa Italia, ha vinto a Ortona, una partita bellissima e lui capì quella partita e mi piacque tantissimo, poi l'ho sempre seguito poi in Ozzemaniano, quindi con lui tutta la vita. Mi fa piacere che c'è un'affinità, grazie, sono lusingato dai tuoi complimenti, posso darti del tuo col massimo di rispetto Alessandro? Assolutamente sì. No, sono veramente grazie, ma poi tra l'altro ti avrei fatto questa domanda perché ci siamo conosciuti quattro anni fa in quella fantastica finale, perché io davvero il campionato d'eccellenza non lo seguo tantissimo, non sono così esperto, però ho visto due squadre che hanno giocato un calcio di categoria superiore, quindi io ti voglio fare i complimenti per tutto quello che hai fatto in questi anni, ma soprattutto volevo chiederti, oggi ho condotto la trasmissione al posto di Marco Tontononati che naturalmente saluto e ringraziamo sempre per il suo prezioso lavoro e contributo. Ho visto i gol, ma ho visto un po' lo svolgimento di questa partita. Il Chieti, al di là dello spessore tecnico che non scopriamo oggi, ma mi sembra una squadra forte davvero anche e soprattutto dal punto di vista mentale, come diceva il Presidente, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo perché stiamo lavorando molto anche sulla testa, che poi noi abbiamo anche la possibilità di avvalerci di un mental coach, che è Celestino Natali, che ci sta dando veramente una grande mano, insieme a me, dove io credo molto in questo tipo di aspetto, per quanto riguarda la gestione e le dinamiche di gruppo all'interno di uno spogliatoio. Il percorso che stiamo facendo con lui da un paio di mesi sta pagando anche quello. E' chiaro che poi come andrà a finire, io questo non lo so, vorrei immaginarmelo in un certo modo, però non lo so. L'importante è fare tutte le cose per bene e provarci, perché bisogna avere coraggio, bisogna sempre avere coraggio nel fare l'allenatore, nel fare anche le scelte, anche se qualcuno delle volte non vengono capite, però il coraggio è la prima cosa, altrimenti è meglio smettere di allenare, secondo me. Perfetto, Lorenzo, a te Lorenzo per l'ultima curiosità. Io lascio tra poco Lucarelli, perché per un mister è sempre complicato e imbarazzante parlare dei singoli, ma in telecronaca diretta il 3 del Chieti, Pietrantonio, davvero ha staccato i ciuffi d'erba dal Dei Marsi. Una cosa impressionante, mister. Sì, lui, Manfredo, è un calciatore bravo, che ha avuto già la sua occasione, non so quali motivi ci siano stati, perché lui non sia stato capace di rimanere in determinate categorie, però lui ha intravviso un percorso che se continua, si impegna, come sta facendo, si mette tra virgolette in discussione e cresce, ci può tornare, dipende da lui, come tutti. Anche quando i giocatori non giocano è perché dipendono da loro, non dipende dall'allenatore, l'allenatore mette in campo quello che vede nel migliore durante la settimana. Quindi lui veramente sta facendo lui, bene, io non ho paura a parlare dei singoli, perché lui sicuramente ha un bel piede per essere un esterno, è un piede da centrocampista, io lo dico, è un regista esterno, quindi va sicuramente bene, ma è chiaro che ce ne sono veramente tanti altri di prospettiva nella squadra, secondo me, e comunque sono contento che è con noi, che non è da nessun'altra parte. I Cramellà che ha un futuro diverso, ce lo possiamo dire tranquillamente, solo che forse qualche problemino di concentrazione ogni tanto, deve stare un po' più sul pezzo, mister, per avere definitivamente una maglia del titolare. Sì, lui vale lo stesso discorso, se lo vuole può, se non riesce a giocare titolare è perché secondo me deve stare un po' più sul pezzo, se lo fa, lui gioca, perché non deve pensare che ci sono altri quattro attaccanti bravi, di categoria, ma anche di categoria superiore. Il giocatore quando non gioca la responsabilità la deve cercare dentro di sé, lui è giovane, lo deve capire, le qualità ce l'ha, il modulo non lo aiuta, questo devo essere sincero, però c'è un obiettivo troppo più grande, la responsabilità di portarlo a termine prevale su tutti gli individualismi e tutte le azioni singole, non può starci. Poi l'egoismo dell'attaccante a me piace, quello va bene, però c'è un obiettivo troppo grande e la responsabilità mia e del gruppo è troppo importante per arrivare in Serie D. Grazie mister, ancora congratulazioni e complimenti per quello che ha fatto. Giovanni, se non hai ulteriori domande da studio per il mister, io ti ripasso la linea, il tempo ovviamente di intercettare altri protagonisti, il tempo di sanificare come normativa gli auricolari e poi ti richiederò la linea a te. e un saluto a Massimo. Massimo, sono zemaniano anch'io, ma questo lo sai benissimo. A te. Faccio solo i complimenti ad Alessandro Lucarelli, lo saluto e lo aspettiamo in studio ovviamente al più presto. Complimenti Alessandro, a presto. Con Massimo Profeta anche una cena. Ok, come no, come no. Veniamo anche io e Giovanni per lo mister. No, parliamo solo dell'unico maestro esistente. Assolutamente, grazie mister. Grazie, ciao, grazie. Grazie.